Vienna è in Europa una città che ha delle sue specificità. Una, una caratteristica forte è quella di essere una città con tantissimi musei e istituzioni pubbliche dove ci sono una serie di gallerie, ma lo scenario delle gallerie non è così influente. Ciò che rende veramente solida e culturalmente vivace questa città sono i musei, dal Belvedere, al Kunsthistorisch, la Secession, più fondazioni private, la Kunsthalle, il Mumok, quindi altre istituzioni pubbliche e private. E' un modello culturale totalmente diverso da quello nostro, nel senso che qui tutte istituzioni supportate con soldi pubblici, ha delle accademie che funzionano molto bene, anche gli artisti hanno a disposizione molte borse di studio, molti grants per ogni tipo di attività, nel caso vogliono produrre un libro, una mostra o portare una mostra all'estero. Quindi esiste un welfare sia a livello sociale, ma anche un welfare artistico. Ed è una situazione ormai anomala in Europa, nel senso che perfino in Olanda la situazione non è più quella di diversi anni fa.